Nel filmato potete vedere Isadora di 5 mesi che rimane con noi in allevamento, altre sono 3 femmine, 3 cuccioline che sono disponibili a pello lungo. Sshhh! Mi sai venire di qua? Lasciala, visto? No, no! Non te lo so il gelato! Vuole rubargli il gelato? Alla zormina è più buono papà Perù! Ma adesso tu ero grandi, che tu mi paravi che io sentavo! Sshhh! Sshhh! E come? Una fredda! No! No, no! No, una fredda! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info